Cosa vuol dire a piede libero? Da dove deriva? A piede libero è un'espressione del linguaggio giudiziario riferita alle persone che sono indagate e non hanno alcun provvedimento restrittivo, consente utile medievale di legare i piedi alle persone indagate. Naturalmente non tutti subivano questo tipo di trattamento. Gli imputati a piede libero sono persone che non ricevono nessuna modalità restrittiva. Praticamente nel Medioevo le persone erano legate ai piedi, prima di subire un processo.